Ciao fiamme, benvenuti nel luogo in cui esploreremo i misteri più oscuri, le storie paranormali più inquietanti e i crimini più impressionanti. Sono Matteo, colui che vi accompagnerà in questo viaggio emozionante nel mondo dell'ignoto. Gary Heignick è stato uno dei serial killer meno conosciuti, ma uno dei più sadici e brutali che siano esistiti sulla Terra. Potrebbe aver ispirato il personaggio malvagio Buffalo Bill nel film Il silenzio degli innocenti. Tuttavia, la verità è molto peggiore della finzione. Heignick rapì, violentò e torturò sei donne, uccidendone due, mentre le teneva prigioniere in un semi-interrato a Philadelphia, in Pennsylvania. Heignick nacque il 22 novembre 1943 da Michael e Dellen Heignick e crebbe nel sobborgo di East Lake a Cleveland, in Ohio. Aveva un fratello minore di nome Terry. I suoi genitori, entrambi alcolizzati, divorziarono nel 1946 e sua madre allevò i due figli per quattro anni, prima di affidarli al padre e alla sua nuova moglie. Heignick ha affermato di aver subito abusi da bambino, poiché suo padre era estremamente severo. Heignick, che bagnava sempre il letto, era costretto ad appendere le lenzuola sporche fuori dalla finestra, in modo che il vicinato potesse vedere. Suo padre era solito disegnare un bersaglio sui pantaloni di entrambi i figli e prenderli a calci in quel punto. Li mandava anche a scuola facendogli indossare proprio quei pantaloni, invitando gli altri a fare i prepotenti con loro. A scuola Heignick veniva preso in giro per la sua testa dalla forma bizzarra, che secondo lui era dovuta alla caduta da un albero. Il ragazzo non interagiva mai con i suoi compagni di scuola, restandosene per conto suo. Alla fine del suo percorso scolastico ottenne anche buoni risultati accademici e il suo quoziente intellettivo era di 148. Suo padre incoraggiò il quattordicenne ad iscriversi all'Accademia Militare per due anni, ma se ne andò prima di diplomarsi e si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti all'età di 17 anni. Servendo nell'esercito per 13 mesi, il sergente istruttore di Heignick lo classificò altrettanto eccellente. Tuttavia, dopo la formazione di base, fece domanda per diversi posti specialistici, tra cui la polizia militare, ma fu respinto. Heignick fu inviato in Texas per essere addestrato come medico e ottenne buoni risultati nella sua formazione. Dopo il completamento fu trasferito al 46esimo ospedale chirurgico dell'esercito nella Germania occidentale. Nel 1962 iniziò a lamentarsi di vertigini, forti mal di testa, visioni offuscate e nausea. Gli fu diagnosticato una gastroenterite e il medico notò che mostrava anche sintomi di malattia mentale. Quindi gli prescresse un farmaco antipsicotico. Heignick fu poi trasferito in un ospedale militare a Philadelphia, in Pennsylvania, dove gli fu diagnosticato un disturbo schizzoide di personalità e fu congedato con onore dall'esercito. Dopo la sua dimissione, divenne un infermiere professionista e si iscresse all'Università della Pennsylvania, abbandonando gli studi dopo solo un semestre. Lavorò presso l'ospedale Veterans Administration di Coatsville, ma venne licenziato per cattiva condotta. Dal 1962 al 1987, Heignick fu ripetutamente ricoverato in ospedali psichiatrici. Sua madre, Ellen, a cui era stato diagnosticato un cancro alle ossa e che soffriva da anni di alcolismo, si suicidò bevendo cloruro di mercurio. Anche suo fratello, Terry, frequentò istituti psichiatrici e tentò più volte il suicidio. Nell'ottobre del 1971, Heignick fondò una chiesa chiamata United Church of the Ministries of God. Poco dopo conobbe una ragazza afroamericana mentalmente disabile di nome Gailie Linkow e con lei ebbe un figlio che chiamò Gary Junior. Il bambino fu dato in affidamento subito dopo la nascita. Heignick ebbe anche una figlia nel 1978 con Anjanette Davidson, un'altra ragazza nera che soffriva di ridotte capacità mentali ed era analfabeta. La loro figlia, Maxine Davidson, nacque il 16 marzo 1978 e anche lei venne data immediatamente in affidamento. Poco dopo la nascita di Maxine, Heignick fu arrestato per aver rapito e violentato la sorrella di Anjanette, Alberta, anche lei mentalmente disabile. Aveva fatto uscire Alberta dall'istituto psichiatrico dove veniva curata e la aveva messa in un ripostiglio chiusa chiave nel suo seminterrato, tenendola prigioniera per 10 giorni. La polizia localizzò Alberta in un bidone nel seminterrato, sanguinante e terrorizzata. Venne portata in un ospedale dove disse che era stata violentata. Heignick venne arrestato e accusato di rapimento e stupro. Venne rinchiuso ad Atascadero, una prigione per i detenuti con i disturbi mentali più gravi. La sua condanna originale fu annullata nel 1983 e fu rilasciato sotto la supervisione di un programma di salute mentale approvato dallo Stato. Heignick utilizzò un servizio di posta matrimoniale per incontrare Betty Disto e rimane in corrispondenza con lei per due anni prima di farle una proposta di matrimonio. La donna arrivò dalle Filippine e i due si sposarono il 3 ottobre 1985. Purtroppo per Betty, per lei, era appena iniziato un incubo. Heignick la costringeva a guardare mentre faceva sesso con altre donne e anche lei lo accusò di violenze. Con l'aiuto della sua comunità filippina lo lasciò nel gennaio 1986. Betty, in seguito, diede alla luce un figlio che chiamò Jesse John Disto. Heignick non aveva idea di essere diventato padre finché non ricevette i documenti per il mantenimento dei figli. Secondo John Douglas dell'FBI, Heignick aveva un piano per creare una razza superiore e rapire donne afroamericane per raggiungere il suo obiettivo. Heignick trascorse ore e ore a perfezionare il suo piano, scavando una fossa profonda nella sua cantina che sarebbe servita per tenere più persone per punizione, completa di morsetti che intendeva utilizzare come catene. Aveva messo dei dadi nei morsetti e li aveva incollati con della super colla in modo che le donne non potessero toglierli. La prima vittima fu Josefina Rivera, una prostituta afroamericana di 25 anni che fu rapita nel novembre del 1986. Heignick la trascinò nel suo seminterrato buio e sporco e la incatenò. La picchiò con un bastone finché non smise di piangere. Heignick teneva la radio e la televisione ad alto volume per soffocare le urla sia nel seminterrato che al piano di sopra. Nel giro di tre giorni Heignick rapì la 24enne Sandra Lindsay che aveva ridotte capacità mentali. La incatenò vicino a Josefina e costringeva ciascuna delle donne a guardare l'altra mentre veniva violentata. La famiglia di Sandra conosceva Heignick e iniziò a cercarla portando anche la polizia a casa dell'uomo. Con la musica ad alto volume all'interno bussarono solo per non ottenere risposta. Nel caso di Sandra per cercare di depistare la polizia Heignick fece scrivere alla ragazza una lettera in cui diceva che stava bene e di non preoccuparsi per lei insieme a una cartolina di Natale. Il 22 dicembre 1986 Heignick rapì un'altra donna, Lisa Thomas, una madre single 19enne senza più una a dimora. La attirò nella sua macchina comprandole il pranzo e invitandola a casa sua per un bicchiere di vino. La ragazza perse conoscenza e quando si svegliò anche lei era stata violentata e incatenata nel seminterrato. Il primo gennaio 1987 l'ennesima vittima Deborah Dudley fu portata nel seminterrato. Lei era coraggiosa e provocatoria e col tempo convisse Heignick ad acquistare una toilet portatile, assorbenti interni e permettere alle donne di fare un bagno di tanto in tanto. Entro il 18 gennaio Heignick rapì un'altra vittima Jacqueline Jackie Askins di 18 anni. Arrivati a questo punto il suo piano era quello di far nascere 10 bambini con le donne rapite. I piani di Heignick tuttavia non funzionarono così bene. Puniva le donne per aver usato comportarsi male. Un giorno Sandra cercò di strisciare fuori dalla fossa. Per l'infrazione la appese per un polso a una trave con i piedi che toccavano a malapena il pavimento. Una settimana dopo Sandra morì soffocata dal peso del suo stesso corpo sui polmoni. Non sapendo cosa fare con il corpo lo portò di sopra. Lì usò una sega elettrica per smembrarla mentre le giovani donne piangevano sentendo il rumore della sega e immaginando la carneficina al piano di sopra. Conservò le braccia e le gambe di Sandra in un congelatore ma non aveva finito. Con un atto oltre ogni comprensione Heignick fece bollire la testa di Sandra in una pentola d'acqua e cucinò le sue costole al forno. Le fece bollire la testa per giorni finché i denti non uscirono dalle gengive. L'odore era putrido tanto che un vicino chiamò la polizia che si presentò bussando la porta. Heignick disse agli agenti che si era appisolato e il suo rosto si era bruciato. La polizia se ne andò non riuscendo a fermare i piani abominevoli di Heignick che tornò in cucina a mettere il corpo di Sandra in un tritacarne mescolandolo con cibo per cani. Il prodotto finale lo diede da mangiare alle donne in un atto di cannibalismo forzato. A un certo punto Heignick portò Deborah al piano di sopra e gli mostrò la testa nell'acqua bollente dicendole che sarebbe stata la prossima se avesse fatto un passo falso. Quando Heignick si rese conto che le sue prigioniere potevano sentirlo andare e venire da casa sua iniziò a ficcargli dei cacciaviti nelle orecchie. Gli piaceva punire le sue vittime quando gli disobbedivano facendole morire di fame torturandole e picchiandole. Secondo il Daily News del Regno Unito Heignick non solo ha torturato fisicamente le sue vittime ma le ha anche manipolate e messe l'una contro l'altra con Josefina che era diventata la preferita di Heignick. Per il compleanno di Josefina Heignick l'ha sorpresi con una torta di compleanno e un paio di pantofole. Tutti mangiarono cibo cinese e la torta insieme. Josefina era astuta. Aveva cominciato a manipolare il suo rapitore. Avrebbe rimproverato le altre donne e lo avrebbe convinto di essere sua alleata. Ad un certo punto Heignick la nominò capo delle donne che aveva rapito crudelmente. Aveva messo Deborah Dudley in una fossa piena d'acqua e aveva posizionato un filo elettrico davanti a Josefina ordinandole di toccare i cavi della batteria con la catena che legava Deborah nel buco. Un'improvvisa scossa elettrica attraversò il corpo di Deborah e lei termò violentamente urlando. Non ci volle molto prima che giacesse inerte nell'acqua. Era morta. Quella stessa notte Heignick caricò il corpo di Deborah nella sua Cadillac Coupé de Vil e guidò con Josefina nel bosco in una remota parte del New Jersey. Heignick raccontò a Josefina di come aveva tagliato e cucinato Sara Lenzi. Nel corso di alcuni giorni Heignick portò Josefina a mangiare fuori e poi andarono a comprare dei vestiti. Le fu anche permesso di dormire nel suo letto. Mentre era fuori con Heignick aveva ampia opportunità di scappare ma sapeva che avrebbe ucciso le altre donne. Josefina aiutò addirittura Heignick con il rapimento di un'altra ragazza. Per premiarla le disse che poteva andare a trovare la sua famiglia. Lei promise di tornare entro 25 minuti. Invece corse a chiamare la polizia da un telefono pubblico. Inizialmente gli agenti pensarono che la storia fosse inverosimile ma Josefina mostrò loro le sue cicatrici sulle gambe e sulle braccia. Disse alla polizia di entrare in casa e di andare direttamente nel seminterrato. Lì trovarono due donne nude incatenate insieme. Trovarono una terza donna nella fossa sotto il compensato. Heignick fu arrestato nell'aprile del 1987 e tentò di impiccarsi nella sua cella di prigione. Durante il processo non guardò negli occhi nessuno. Una volta liberata Josefina venne ridicolizzata dei suoi compagni prigionieri per essere la compagna di Heignick. Ma il vice procuratore distrettoare Charles Gallagher la difese, sostenendo che era stata comandata, incoraggiata e costretta ad aiutare il suo stesso rapitore. Heignick venne giudicato colpevole di due omicidi e condannato a morte. Venne giustiziato tramite iniezione letale il 6 luglio 1999 presso lo State Correctional Institute Rockview a Belfont in Pennsylvania. In seguito al processo Josefina tornò in strada come prostituta. Si allontanò da quella vita dopo circa un anno. Svolse vari lavori come impiegata, assistente, cameriere e guardie di sicurezza. Si riconciliò con i suoi tre figli e ora è una nonna che vive ad Atlantic City. Dal 2012 lavorò come consulente, le piace andare in chiese e fare da babysitter i suoi nipoti. Il suo fidanzato, Chris Lyle, ha detto al Philadelphia Inquirer. Mi piace il suo atteggiamento e la sua forza. È una sopravvissuta. Josefina si spaventa facilmente e ha attacchi di panico. A volte deve spegnere la televisione per non ricordare il suo trauma. Inoltre non sopporta di sentire il rumore delle foglie sotto i piedi di qualcuno che le ricordano quando portarono il corpo di Deborah nel bosco. Josefina ama passeggiare sulla spiaggia e raccoglie pezzi di vetro marino, frammenti di bottiglie e barattoli. Come la sua vita, le ricorda che nel tempo anche le onde tumultuose e agitate possono trasformare i bordi taglienti e frastagliati in pietre preziose e lisce.